E' divisione tra la cittadinanza di Loreto a Prutino per quanto riguarda la possibilità di ospitare nel centro dell'area vestina un impianto di biogas. Nelle settimane scorse proprio l'amministrazione Starinieri ha ricevuto un primo contatto da parte della start-up abruzzese Make Energy SRL intenzionato a voler realizzare il proprio impianto per la produzione del biometano sul territorio di Loreto a Prutino. Make Energy è la stessa azienda che aveva presentato il progetto anche a Collermele nell'Aquilano. C'è stato un incontro pubblico il 31 ottobre e avevamo invitato molti del settore agricolo. Purtroppo sono venuti veramente in pochi salvo manifestare poi un nuovo incontro che faremo lunedì alle 20.30 presso la sala consigliare non chiamando i tecnici ma chiarendoceli informando. Chi vuole informarsi deve andare a vedere la produzione di biodigestione anaerobica per la produzione di biometano. L'impianto arriverà a trattare 36.000 tonnellate annue di forso, la parte organica della raccolta differenziata, 14.000 tonnellate di sottoprodotto della filiera agroalimentare come liquami di stalle e cantine, oltre a 12.000 tonnellate di verde e potature. Questo porterà alla produzione di 4,2 milioni di metri cubi di metano da immettere nelle reti del gas. Si produrrà anche anidride carbonica ad uso alimentare e biocompost certificato. L'amministrazione, io stesso ho tenuto conto delle eccellenze di produzione che abbiamo sul territorio di Loreto. Non è un normale biogas in cui si va a bruciare il gas prodotto per produrre energia elettrica attraverso una turbina, ma si fa attraverso un processo di upgrading, si chiama. Si porta il metano al 95%, quindi metano che può essere immesso direttamente in rete. Inoltre, ho preteso, e già ci sono accordi, se poi si farà, ripeto, siamo in una fase embrionale, non è stato autorizzato ancora niente, un accordo con l'Università dell'Aquila, Ingegneria Ambientale, e ci sarà un laboratorio di ricerca sugli acidi organici e sui eventuali processi di trattamento delle acque vegetative. In più, si spera di fare un centro di formazione per gli operatori che si interessano gli ambienti. Contrario ad ospitare questo impianto a Loreto, oltre ai tanti cittadini e alle aziende agricole che lavorano sul territorio, anche il gruppo di opposizione, che tramite Antonello delle Monache, capogruppo di Incomune, fa sapere che saranno pronti a portare avanti questa battaglia per tutelare i cittadini e le eccellenze del territorio loretese.